Lecce! 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 Vincerò la Coppa del Mondo per il Brasile. Te lo prometto. Gico, se vuoi giocare da professionista, non puoi vergognarti di chi sei. Ti devi allenare. Tutto il resto verrà da sé. Avrai anche 16 anni, ma adesso rappresenti la nostra grande nazione. Devi ispirare i tuoi compagni a credere in loro stessi. È arrivato il momento di Pelé. Io non lo so se vinceremo, ma gli faremo vedere uno splendido gioco. Pelé, dal 26 maggio al cinema.